Vuoi migliorare il recupero dopo un'uscita in bici? Scopriamo come farlo dopo la sigla. Il recupero dopo l'uscita in bici è fondamentale e soprattutto è un aspetto che moltissimi ciclisti sottovalutano e non solo sottovalutano, ignorano completamente quali siano i benefici e soprattutto quali siano le condizioni necessarie per ottimizzare il recupero. Perché questo? Perché non è durante l'allenamento, l'uscita che facciamo in bicicletta, che il nostro corpo migliora. È durante il recupero successivo che noi facciamo effettivamente migliorare il nostro corpo. Il nostro corpo non migliora durante l'allenamento, bensì migliora durante la fase successiva e imparare a gestire opportunamente il recupero è una cosa importante perché dei recuperi che non sono ottimali producono un peggioramento della forma fisica. Recuperi che sono troppo lunghi non apportano i giusti adattamenti, le giuste modifiche fisiologiche al nostro corpo. Per cui giocare con i tempi di recupero è fondamentale. Per farlo andiamo prima a capire cos'è la supercompensazione. In questo grafico, come vedi, ho indicato la supercompensazione. La supercompensazione cos'è? Durante la fase di allenamento, come vedi nel grafico, c'è un calo delle prestazioni del nostro corpo. Aumenta tantissimo la fatica e il nostro corpo viene sottoposto a uno stressor. Uno stressor, cioè un agente esterno che provoca una reazione di stress. Questo agente esterno è la pedalata in bicicletta. Poi cosa succede? Quando noi smettiamo di pedalare, il nostro corpo attiva dei meccanismi, delle reazioni fisiologiche, biochimiche che producono degli adattamenti. Cioè il nostro corpo cosa dice? C'è stato questo stress. Io, la prossima volta che questo stress appare, voglio essere più forte. Per cui compensa, cioè adatta lo stress, ma non solo supercompensa, cioè migliora le proprie condizioni per creare, per far sì che quando questo stress si riproponga, il nostro corpo sia pronto. Qual è il problema? È che se non fai passare il tempo giusto fra un allenamento e l'altro, il nostro corpo non fa in tempo a far risalire quella linea che vedi e rimane sempre bassa, ma soprattutto se vedi sulla parte destra di questo grafico, se fai passare troppo tempo, gli effetti della supercompensazione vanno persi. E quindi gli adattamenti che tu hai stimolato nel tuo organismo vengono persi, perché il nostro corpo utilizza uno schema adattativo che si dice use it or lose it, usalo o lo perderai. Se noi forziamo degli adattamenti che però poi non vengono ulteriormente stimolati, il nostro corpo se ne disfa, perché non li trova funzionali, non li trova utili. Per cui è importante gestire il recupero, focalizzarci bene sul recupero, per ottimizzare le nostre attività e soprattutto per migliorare in bicicletta. Ora, tre strategie per ottimizzare, per accelerare il recupero. La prima, smetti di fare stretching subito dopo l'uscita. Lo stretching, cioè l'allungamento muscolare, soprattutto quello statico e passivo, non accelera il recupero, bensì lo rallenta. I nostri muscoli, dopo l'uscita in bici, sono assetati di sangue, perché il nostro muscolo è carico di metaboliti prodotti dalle reazioni biochimiche formatisi durante la pedalata e questi metaboliti devono essere portati via. Cosa porta via i metaboliti? Il sangue. Lo stretching allungando il muscolo produce vasocostrizione, cioè i vasi, i capillari e le arterie che portano il sangue ai muscoli, invece di aumentare di calibro, ne diminuiscono e quindi noi stiamo portando meno sangue ai muscoli, accelerando quindi i tempi di recupero. Lo stretching è importantissimo, va fatto, ma non va fatto assolutamente prima e dopo, subito dopo, una pedalata. Dopo la pedalata ti fai la tua doccia e lasci stare lo stretching, perché fare stretching, ti sta allungando i tempi di recupero anziché diminuirli. Seconda strategia, assumere una giusta quantità di proteine post allenamento. Molti ciclisti sono convinti che l'unico nutriente per il ciclismo siano i carboidrati, punto. Però questa cosa non è l'approccio perfetto. Ci sono numerosi studi di nutrizione per i sport di endurance che sono andati a vedere l'impatto delle proteine sul recupero. Perché questo? Durante la pedalata, adesso parliamo un po' di fisiologia, ma molto semplice, durante la pedalata il nostro corpo può utilizzare due fonti energetiche. Il glucosio, che viene preso dal glicogeno muscolare, e gli acidi grassi, che vengono presi invece dal tessuto adiposo dalla ciccia. Questi due sono intensità dipendenti. Cioè, più l'intensità è alta, più verrà utilizzato il glucosio rispetto agli acidi grassi. Dopo due o tre ore di pedalata, dipende da quanto si è allenato, il glicogeno muscolare viene depleto, cioè si esaurisce. E non puoi sintetizzarlo, cioè rifarlo durante la pedalata. Cosa succede quindi? Che tu ti trovi a corto di glucosio. Il nostro corpo ha bisogno di produrre energia, ma gli acidi grassi da soli non innescano i processi energetici. Perché si dice appunto che i grassi bruciano il fuoco dei carboidrati. Perché serve una sorta di miccia per far sì che anche gli acidi grassi producano l'energia sufficiente. Quindi cosa fa il muscolo? Utilizza un altro tipo di carburante. Questo altro carburante sono gli amminoacidi. Gli amminoacidi da cosa vengono presi? Dal tessuto muscolare. Si prendono le proteine che costituiscono i mattoni delle fibre muscolari, si catabolizzano, cioè viene praticamente consumato il muscolo per fornire amminoacidi che inneschino i processi energetici. Quindi il ciclismo, soprattutto se andiamo a pedalare più di 10-15 ore a settimana, è un allenamento, è una pratica che catabolizza il muscolo. Cioè se tu noti i ciclisti professionisti sono magri ma non sono muscolosi perché appunto catabolizzano spesso il muscolo dovuto da questo volume eccessivo, eccessivo no, ma molto elevato di allenamento. Come possiamo accelerare il recupero? Al termine della nostra pedalata il nostro corpo ha una finestra che viene chiamata finestra anabolica di circa 40 minuti in cui tutti i macronutrienti vengono assorbiti in maniera più rapida rispetto alla vita quotidiana. In quel caso, in quel momento è opportuno ingerire tra i 30 e i 60 minuti subito dopo la pedalata una quota di proteine. Proteine che possono essere proteine determinate da il cibo, quindi legumi, carne, pesce, oppure se vogliamo accelerare possiamo usare delle proteine derivate dalle proteine del latte, quindi le famose whey, che sono già idrolizzate e quindi sono più facilmente assorbibili. Questo perché? Perché in questo modo si va a stimolare la sintesi proteica, quindi il muscolo si ripara molto più velocemente e acceleriamo il recupero. Perché? Perché il catabolismo muscolare viene spento, diciamo così. E quindi è stato visto che per il recupero, subito dopo l'allenamento di endurance, assumere proteine accelera maggiormente il recupero rispetto all'assunzione di soli carboidrati. Il terzo punto, la terza strategia che puoi utilizzare per ottimizzare il tuo recupero post bici è ricordarti della fascia. Cos'è la fascia? Tutti i nostri muscoli sono inguainati da un tessuto collagene, un tessuto gelatinoso, chiamiamolo così, che si chiama fascia. Ora per una sorta di... per avere un'idea è come... hai presente la salamella e la pelle della salame? Ecco, è la stessa cosa. La fascia ricopre il muscolo, lo avviluppa e favorisce lo scorrimento delle fibre, nutre i muscoli e favorisce le giuste vie di trasmissione della forza muscolare. Durante la pedalata la fascia può andare incontro a attriti, contratture, può andare incontro alla riduzione di movimento e di fluidificazione. Questo rende comunque il recupero muscolare post allenamento, ovviamente soprattutto a carico degli arti inferiori, più lento. Un modo per accelerare il recupero è quello di sottoporsi a dei massaggi miofasciali, quindi a dei massaggi semplici, che puoi fare con il foam roller. Quindi prendi un foam roller e massaggi la parte degli ischio crurali, quindi la parte posteriore della coscia, i quadricipiti, i polpacci, la parte laterale della coscia, che è la bandelletta eliotibiale, e i glutei. Li sciogli, li riscaldi, li massaggi, favorisci il rilascio delle contratture muscolari che si possono formare e questo favorisce da un lato, migliora lo scorrimento della fascia sul muscolo, dall'altro favorisce l'irrorazione sanguigna e quindi tutto quel lavoro di spazzino che il sangue doveva fare quando per accelerare il recupero. Quindi piuttosto che fare stretching, prendi il foam roller, dopo aver ingerito le tue proteine ti massaggi, massaggi la parte inferiore del tuo corpo e questo sicuramente accelera il recupero rispetto al semplice stretching o al non fare nulla. Detto questo, a me non rimane che ringraziarti per avermi seguito. Se il video ti è piaciuto metti il mi piace e condividilo con i tuoi amici di pedalata e qui ti lascio tre suggestioni. Il primo suggerimento è questo, qui sotto puoi andare a vedere un video sullo stretching, quindi per andare a migliorare quelle che possono essere le tue tecniche di recupero post allenamento. Qui ti metto il nostro link al servizio di allenamento. Se vuoi essere seguito dai nostri preparatori atletici per la fornitura di tabelle per i tuoi obiettivi che siano gran fondo, marathon, viaggi o semplicemente divertirti e strutturare il tuo allenamento in maniera intelligente, puoi cliccare sul link e essere uno dei nostri atleti. E qui invece ti metto il pulsante per iscriverti al nostro canale e quindi sarai sempre aggiornato sui prossimi Bike Italia Talks. Detto questo, non mi rimane che augurarti buone pedalate. Osss.